L'abusivismo è un dramma per l'economia reale, è un dramma per il commercio, è un dramma per il turismo, è un dramma per gli artigiani. Il fatto che c'è una concorrenza sleale, elevatissima, da parte di chi è aiutato dalle norme, dalle leggi. Nel campo del turismo è di questi giorni una sentenza che ricorda a Airbnb questo portale dei bed and breakfast che debbano pagare 130 milioni allo Stato italiano per tasse che Airbnb non vuole pagare. Allora noi diciamo, dice anche la ConfCommercio nell'ultima assemblea nazionale, che nello stesso mercato devono valere le stesse regole. Quindi stessa tassazione, stessi obblighi di comunicazione nei confronti della questura per quanto riguarda la segnalazione per la sicurezza, stessi obblighi per la denuncia delle presenze per quanto riguarda le presenze turistiche e soprattutto il rispetto delle leggi. Addirittura noi avevamo nella provincia di Pesaro e Urbino, nella località di Cagli, dei bed and breakfast che pubblicizzavano sul web e che facevano anche cena. Lo dice il nome, no? Bed and breakfast, quindi non puoi fare la cena. Da questo punto di vista ci deve essere un impegno forte da parte della questura, da parte dei carabinieri, da parte della polizia municipale. Ma noi richiediamo anche a livello nazionale una legge come è stata fatta in molte città europee, dove è stato vietato di fare il bed and breakfast nei centri storici. Penso a Berlino, penso a Amsterdam. Questo perché ovviamente il bed and breakfast, che non è un'attività imprenditoriale, crea una concorrenza sleale nei confronti degli operatori che regolarmente pagano le tasse. In questa provincia abbiamo oltre 600 bed and breakfast, abbiamo tantissimi agriturismi, siamo la prima provincia di agriturismi nella nostra regione. Ecco, stesso mercato, stesse regole, quindi controlli come si fanno nelle nostre aziende anche in queste attività.